Ben tornati in studio, riprendiamo con la lettura delle pagine interne dei quotidiani nazionali con la Repubblica. Quarto, il patto segreto, mandare avanti i nuovi ma dietro noi vecchi, Grillo farà tour anti-PD e riguarda naturalmente la questione di quarto, molto dibattuta in questi giorni. Poi l'India cede, la torre in Italia altri tre mesi, Roma non bastano per la Farnesina, escluso il rientro fino al termine dell'arbitrato ONU, ma si attende una sorpresa. E ancora si parla della notte di Capodanno a Berlino, Berlino tolleranza zero, espulsioni più veloci, limiti al diritto d'asilo, le vittime denunciano la polizia, omissioni di soccorso, incriminati quattro neonazisti, preparavano raid, la ferita di colonia, l'accoglienza tradita nel luogo simbolo della Germania. E andiamo avanti. Libia, entro il 17 governo, poi l'appello all'ONU per un intervento armato, i servizi occidentali, l'Italia compresa, monitorano lo Stato islamico in due settimane, 500 nuovi combattenti dal fronte Iraq-Siria. A Istanbul, svuotata dalla paura, il kamikaze aveva chiesto asilo, ma il nostro nemico è Putin. Nelle strade un clima spettrale, arrestate 69 persone, tra cui tre russi, l'attentatore era un siriano, aveva avvarcato il confine il 5 gennaio. Andiamo avanti, due anni di paura e 11 mila vittime. Una buona notizia, ora Ebola è finita. L'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nessun contagio per il momento, epidemia sparita. Nella stessa pagina l'intervento di Fabrizio Pulvirenti, che aveva contratto il virus ed è stato salvato. Ho sconfitto il virus, ma aiutiamo l'Africa, altrimenti può ritornare. Andiamo avanti. Acido, altri 16 anni a Martina, si parla di Martina Levato, che ha sfregiato insieme al suo fidanzato l'ex compagno. Acido, altri 16 anni a Martina, Milano l'ha levato condannata assieme al complice Andrea Magnani, 9 anni e 4 mesi, scoppio in lacrima. Ho confessato, mi sono pentita, ma si accaniscono contro di me quei raid per punire due ragazzi. L'intervista a Savi, dopo 13 interventi per il corpo sfregiato, io in aula per guardarli in faccia. Andiamo avanti con la tragedia di ieri sulle nostre montagne. Valanga travolge studenti. Valanga travolge studenti. Tre morti. Tragedie in Val d'Isere, in Val di Serro, sulle Alpi francesi. Il gruppo su una pista nera, che era stata chiusa per precauzione. L'insegnante che li accompagnava è ritrovato in stato di incoscienza. Allarme slavine anche in Val d'Aosta. Proseguiamo invece con le pagine interne del Fatto Quotidiano che apre con la fuga delle banche e approfondisce con invece la questione di Quarto e del Movimento 5 Stelle. Quarto ricatti e intercettazioni. Vediamo nella foto di Maio, di Battista e Fico nel web video accanto la foto del sindaco che è visibile nell'altra pagina del sindaco Rosa Capuozzo intorno alla quale è scoppiato in qualche modo lo scandalo. Quarto ricatti e intercettazioni. bugie e verità del Movimento 5 Stelle. Il sindaco, le pressioni del consigliere, la mancata denuncia. I messaggi con Fico e Di Maio e la conversazione sul commissariamento, quindi l'approfondimento sulla vicenda. E ancora sanità. La regione, marchi ai manager, partito per partito. Si parla appunto della Lombardia, delle presunte lottizzazioni del settore sanitario. L'agenzia ARC, Lombardia, a fianco in una mappa, nomi e simboli politici. Ed è questa che vediamo nella foto che è poi stata ritirata per evidenti motivi. Unioni civili urla senza accordo. Il testo della discordia scrive il Fatto Quotidiano. sulla stepchild adoption, idem sempre più divisi. Il premier in ansia invita a moderare i toni. I dubbi di Mattarella sulla costituzionalità della norma sulle adozioni. Andiamo avanti. Un pezzo che invece riguarda la condizione della libertà di stampa nel nostro paese. Un'inchiesta di Marco Lillo. Assalto ai cronisti e alle fonti per normalizzare la stampa. Notizie segrete. Le procure ora sono diventate aggressive. I casi di Ballarò, Piazza Pulita e il Fatto. In Ballo c'è il diritto di dare notizie. Poteri forti. La trasmissione Ballarò e Piazza Pulita spiegano. Sono nel mirino per due servizi sulla polizia. Il Fatto e il Corriere, vediamo Corrado Formigli, il conduttore di Piazza Pulita. Il Fatto e il Corriere, tra l'altro, per le intercettazioni tra Renzi e il generale del Guardia di Finanza, Adinolfi. Ed è tutto con i quotidiani nazionali. Entriamo invece all'interno delle pagine dei quotidiani regionali con il quotidiano del Sud. Partiamo dai trasporti. Trasporti lavoratori da tutelare. L'assessore Musmanno finalmente si riordina il comparto. Siamo nel Cosentino. La CGL è soddisfatta della riforma, ma le clausole di salvaguardia vanno rafforzate. Consiglieri placcati dai vigili. Marciano verso la stanza di Cucunato, ma trovano la municipale. Ciaparrone e Sacco avevano dubbi sulla manutenzione negli alloggi. Andiamo avanti con l'edizione integrale del quotidiano della Calabria che apre con le mani della mafia su Videolotteri. Dunque la notizia che parte dall'inchiesta di Roma. Le mani della mafia su Videolotteri. 11 persone sono state arrestate dalle Guardie di Finanza Romane. In manetti anche un boss dell'Andrangheta. Il gioco d'azzardo rende più della droga. Il sodalizio aveva anche contatti con la camorra. E andiamo avanti. Fratelli e clan, ombre e dubbi. Un luogo di sotto, oggetto di varie inchieste. Polemiche dopo le denunce di Minicelli, maestro del GOI, espulso del Grande Oriente d'Italia su commissioni tra massoneria e Andrine. L'articolo di Michele Albanese che da Palmi scrive c'è commissione tra la massoneria e l'Andrangheta nell'inchiesta della magistratura nelle quali hanno parlato molti collaboratori di giustizia. Sì, c'è e come. L'argomento è ritornato al centro dell'attenzione dopo le denunce del gran maestro Amerigo Minicelli su iscrizioni a rischio Andrangheta in Calabria. Si è parlato quindi dell'iscrizione in particolare di alcuni magistrati calabresi alle società massoniche. Andiamo avanti con la sanità. Nella foto vediamo il ministro Beatrice Lorenzin. Il deficit incontro a Roma. Il governatore è riuscito a spuntarlo dopo le critiche a Scura e i suoi predecessori scopelliti incluso. Oliverio rientra nella sanità. Il ministro Lorenzin accoglie la richiesta di ridiscutere il piano per i debiti. SEL contesta i criteri dei fondi della regione. In sette anni di commissari in Calabria è tutto come prima. È la valutazione di questo articolo firmato da Laura Cimino. Andiamo avanti. Nelle pagine che riguardano la Calabria si parla di Why Not. Nella foto l'unico condannato, vale a dire Giancarlo Franzè, la sentenza, il processo di primo grado sui presunti illeciti nella gestione dei fondi pubblici Why Not, una sola condanna, due anni e sei mesi a Franzè, assolti Adamo, Morelli, Morrone e Gallo. E poi Roseto Capospulico, una notizia di cronaca, ha chiesto il rito sessuale su una minorenne. Andiamo avanti. Si riprende la notizia della Svimez sulla cosa pubblica e sull'inefficienza soprattutto della macchina burocratica. Il rapporto profondo rosso per la qualità dell'amministrazione in Calabria e la cosa pubblica agli ultimi posti dal 2004 al 2012, nessun miglioramento rilevato, pesa soprattutto la corruzione. e c'è un'intervista, una dichiarazione di Adriano Giannola, che è il presidente della Svimez, che dichiara una situazione addirittura peggiorata nel corso degli anni. Andiamo avanti con un episodio di cronaca accaduto molti anni fa, precisamente nel 2004, sul quale ieri si è finalmente fatta piena luce. Francesco Salvatore Fortuna è ritenuto il killer che sparò quell'estate del 2004. Omicidio di Leo fermato un uomo. È considerato uno degli esponenti della cosca dei Buonavota di Santo Nofrio, nel Vibonese. Nelle foto vediamo appunto il carnefice Francesco Salvatore Fortuna e la vittima Domenico di Leo. Ieri abbiamo realizzato un servizio di approfondimento su questa questione dopo la conferenza stampa che si è svolta alla Didia di Catanzaro. Vediamolo insieme. Dopo 12 anni, uno degli assassini di Domenico di Leo, ucciso a colpi di pistola, Kalashnikov e fucile nel luglio del 2004, ha un nome e un volto. Si tratta di Francesco Salvatore Fortuna, 34 anni, ritenuto esponente di spicco della cosca di Indrangheta di Buonavota attiva a Santo Nofrio. Ed è proprio qui che è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia mentre si trovava per strada, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Didia di Catanzaro. Le indagini coordinate dal procuratore vicario Giovanni Bombardieri e dal sostituto Camillo Falvo sono partite dal taglio di mille olivi risalenti al 2011 a titolo di estorsione ai danni di una cooperativa con scopi benefici gestita anche da religiosi a Stefanaconi, conclusasi con l'arresto dei vertici del clan di Buonavota. Ma ad incastrare Fortuna sono stati dei guanti di lattice che, comparati con il suo DNA, hanno consentito ad inquirenti investigatori di fare quadrato su un omicidio efferato dove all'epoca dei fatti furono trovati ben 45 bossoli di fucile, pistola e kalashnikov. All'arresto hanno anche contribuito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raffaele Moscato che ha raccontato come fortuna era solito nascondere in tasca i mozziconi di sigaretta perché nessuno potesse risalire al suo DNA. Un omicidio maturato nell'ambito di contrasti interni alla cosca di Indrangheta di natura economica per differenti vedute sull'ubicazione di imprese nella zona industriale di Maierato e di natura personale. Di Leo avrebbe offeso uno dei Buonavota intrattenendo una relazione sentimentale con la cugina. Le indagini vanno avanti per scoprire gli altri autori del delitto. Gabriella Passeriello per l'AC News 24. L'avete visto nel servizio le indagini coordinate dalla DDA di Catanzaro dal procuratore vicario Giovanni Bombardieri è condotte anche dal comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valencia. Noi a margine della conferenza stampa abbiamo ascoltato sia il procuratore Bombardieri che il comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valencia Daniele Scardecchi. L'omicidio di Leo è stato contestualizzato temporalmente nel corso delle indagini relativi al danneggiamento subito dalla cooperativa Scopi Benefici Talita Cum tramite il taglio di mille ulivi. Un gesto odioso che anche l'autorità ecclesiastica non esitò a definire un'offesa a Dio agli uomini. Nell'ambito delle investigazioni relative a questa estorsione erano emersi degli elementi che portavano a individuare l'odierno fermato come uno degli autori dell'omicidio. E' stata un'indagine paziente da parte dei Carabinieri che a distanza di così tanto tempo ci consente di dare una lettura a quel periodo in cui si erano susseguiti una serie di episodi delittuosi. Erano delle frizioni interne riteniamo al gruppo criminale del Bonavota di cui il Fortuna fa parte, così come faceva parte anche la vittima di Leo Domenico e che ci vengono, le equidinamiche ci vengono anche ricostruite da alcuni collaboratori di giustizia. In ultimo un collaboratore ci descrive il ruolo di questo Fortuna come un ruolo di un killer feroce e comunque è un soggetto molto abile nell'uso di armi, del calasmicro in particolare e di molto attento nel non lasciare tracce a lui riferibili. Addirittura ci dice che quando fumava una sigaretta si portava con sé anche il mozzicone che ne rimaneva o quando sorseggiava una bottiglietta d'acqua in plastica riportava con sé la bottiglietta. Catanzaro per la CNews 24. E prima di proseguire con la lettura dei giornali vediamo la nostra rubrica Il Santo del Giorno. Giovedì 14 gennaio la chiesa ricorda San Felice. Annola in campagna San Felice sacerdote che, come riferisce San Paolino, durante l'imperversare delle persecuzioni patì in carcere e atroci torture e una volta ristabilita la pace fece ritorno tra i suoi, ritirandosi in povertà fino ad avanzata vecchiaia, invito confessore della fede. E riprendiamo subito dalle pagine interne del quotidiano che riguardano Vibo Valencia. Il retroscena di un delitto maturato all'interno del clan Bonabotta, si parla ancora dell'omicidio di Leo, sistema bibliotecario vibonese escluso dal bando regionale, il TAR respinge il ricorso dell'ente. E nella fotonotizia vediamo un esempio di scalinata mobile coperta in toppi per la realizzazione di quella che dovrà collegare i terminal bus alla zona della città. Palazzo Razza risolve il rapporto di lavoro con la ditta per gravi inadempienze. Scala mobile, contratto rescisso, dopo 152 giorni dalla consegna la percentuale di avanzamento è dell'1% scarso. Triste storia di una bimba contesa, il caso di cui ci parla il quotidiano, ore di drammatica tensione, alla fine si raggiunge un temporaneo compromesso, il giudice via dalla madre, andrà in una casa famiglia ma lei si oppone piangendo. Momenti di grande tensione e anche di forte commozione per questo episodio che ha avuto luogo allo Iazzolino. Ammazzato dal suo stesso clan, ancora un approfondimento sul caso di Leo, un omicidio del 2004 a colpi di Kalashnikov e fucile calibro 12 sotto casa della vittima, un assassino di incredibile ferocia, scrive nel provvedimento il PM della DDA Camillo Falvo e commenta l'agguato ai danni di Dileo. Francesco Fortuna è la fuga di notizie che in passato ha favorito la sua latitanza. E nella parte bassa vediamo proprio la fotografia e l'identikit in qualche modo di Francesco Fortuna, l'assassino dunque di Dileo. Parla il pentito Raffaele Moscato sulle accortezze utilizzate da Francesco Fortuna, bravo con le armi e ossessionato dalla paura del DNA. Decisivi gli esami dei sui guanti per anni dimenticati. Andiamo avanti con una notizia che riguarda invece il sistema bibliotecario vibonese. Contro l'esclusione dell'ente vibonese dall'avviso pubblico della Regione, il Tar respinge il ricorso del sistema bibliotecario vibonese, gli interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e nella foto vediamo la sede del sistema bibliotecario vibonese, dunque Palazzo Santa Chiara e il direttore dell'ente Gilberto Floriani. Ricorso rigettato, il Tar della Calabria ha respinto le doglianze presentate dal sistema bibliotecario vibonese contro la decisione della Regione di escludere l'ente dagli interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche, quindi una cattiva notizia per quel che riguarda la cultura. Concludiamo con Tropea, comune, giorni decisivi. Si attende infatti l'esito del lavoro della Commissione d'Accesso. Sono giorni decisivi, l'organismo potrebbe prorogare il suo operato per altri 90 giorni. venerdì 23 ottobre 2015 è il giorno in cui a Tropea si è insediata la Commissione d'Inchiesta che adesso potrebbe consegnare la sua relazione oppure chiedere appunto una proroga di tre mesi. E con questa notizia si chiude il nostro primo appuntamento del giorno con l'informazione. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una splendida giornata anche sulla nostra rete. Amici, c'è una giornata di giovedì che inizia a mostrare i primi segni di quel cambiamento che si manifesterà in maniera più marcata e convinta nel fine settimana. Vediamo che dal vortice volare, quindi dal nord Europa, discende dell'aria più fredda, colorata in verde, ancora più fredda, lì dove la tinta vira verso il blu, e proprio in direzione della nostra penisola si rafforza sui Balcani e già da 1500 metri d'altezza vediamo che alle medie altezze la presenza di aria fredda diventa marcata sul centro Italia e sul nord d'Italia. Meridione ancora di una colorazione arancione, giallo-arancione, tendente però, lo vedremo nelle giornate successive, nei collegamenti dei prossimi giorni, questa, diciamo, discesa di aria fredda tenderà ad abbassarsi sul Mediterraneo Centrale nei prossimi giorni portando quel cambiamento delle condizioni meteo che sulla Calabria e sulla nostra regione si manifesterà a partire da sabato con brusco calo delle temperature, ritorno della pioggia e nevicate che piano piano dai mille metri tenderanno poi nel corso della giornata domenicale e più propriamente forse nella nottata di lunedì tenderanno ad arrivare anche in Calabria a quote più che collinari. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola possiamo dire che sarà la giornata di giovedì caratterizzata da maltempo dapprima sull'Italia sedentrionale e poi la fase di maltempo tenderà ad abbassarsi progressivamente lungo la dorsalia peninica passando, diciamo, sul centro Italia interessando con il maltempo l'Italia meridionale soltanto nella giornata di venerdì. Lo dicevo, piogge temporali piuttosto accentuate su tutta la fascia di renica sedentrionale dalla Liguria, Alta Toscana, le zone più interessate da maltempo. Il maltempo tenderà a traslare una parte verso il nord-est e l'altra parte invece scenderà verso sud portando ancora nel corso della seconda parte della giornata di giovedì temporali lungo tutta la fascia di renica con, diciamo, le precipitazioni che si estenderanno anche al settore che guarda l'Adriatico, quindi in un contesto di instabilità diffusa. Meridionale d'Italia in un momento di attesa, diciamo, di quella fase di maltempo che sarà caratterizzata dagli ultimi refoli della perturbazione che interessa giovedì di centro Italia nella giornata successiva di venerdì e quindi sarà una giornata quella di giovedì ancora di attesa con annuvolamenti sparsi su tutto il settore tirrenico, situazione di instabilità più marcata sull'entroterra Cosentino, sui rilievi della Sila, del Polino, delle Serre, delle ore, diciamo, centrali della giornata. Dei fenomeni potrebbero, nel corso delle ore pomeridiane, anche scendere lungo le coste della fascia ionica, in un contesto che comunque rimane in assenza ancora di fenomeni significativi. A seguire una giornata di venerdì con questa, diciamo, situazione di stabilità che renderà a accentuarsi nel corso dei pomeriggi, a partire dal settore tirrenico e di estensione, poi nella serata di venerdì un po' a tutto il territorio della provincia calabrese. Scenderanno nel fine settimana bruscamente le temperature e tra sabato e domenica la presenza di un vortice depressionario sul Marioni, attirerà in maniera abbastanza ammarcata aria fredda dai Balcani sul meridio d'Italia, ritornerà al neve in sila in maniera copiosa a cote anche inferiori ai millimetri. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Lago Notaro per gli amici di La Cina. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Grazie a tutti.